Come promesso, signore e signori, ladies and gentlemen, sono qua vestito da Arlecchino Michelin. Oggi è il 16 dicembre e ci sono tre gradi in questo posto a Mariano Comense, in provincia di Como. Che cosa sto facendo qua? Sto attenendo tre amanti del crowdfunding che, grazie al crowdfunding fatto sulla piattaforma Team With You, We Do, With You, We Do, provatelo, non sciogli lingua, With You, We Do, Francesco smettila perché hai rotto, hanno vinto questa fantastica giornata a base di grigliata e tuffibomba. Di fianco a me c'è una griglia, eccola qua, sto facendo del mio meglio. Non ridete, per favore. Dietro di me invece c'è la piscina, mancano solamente loro, gli amanti del crowdfunding. Andiamo a vedere se sono arrivati. Piacere Francesco, piacere Francesco, piacere Francesco, piacere Francesco, piacere Francesco. Paola ha portato del vino. Tu in che cosa hai investito? Allora, hai investito in un progetto che si chiama Skiu Dentro e Fuorte. Noi abbiamo investito in Ridona. E noi invece abbiamo investito in una piattaforma che si chiama Martina. Allora, miei cari cuori impavidi, siamo pronti per la grigliata? Pronti! Sì! Siamo arrivati al momento tanto atteso. Ciao Emma. Tutto a posto? Io ti ringrazio tantissimo che hai fatto questo crowdfunding, hai mangiato le costine, la salsiccia e adesso questo è il vero premio. Sei pronta? Uno, due, tre! Sto scherzando. Eccoci qua per far migliorare tutto. Uno, due, tre! E vai! E vai! Tanti! Un salpare! Un salpare! Hai! Un salpare! Grazie a tutti.